Veniamo dunque da un essere assoluto che si è incarnato in un essere reale e determinato con uno scopo ben preciso di ottenere una vittoria assoluta attraverso ogni singola possibilità formalizzata in termini di vite umane. Infatti cialcuno di noi proviene come da un padre che si è messo in croce nel singolo figlio specifico per delegare al figlio la vittoria del caso personale assegnato al figlio. Dio padre l'ha assegnato al figlio come a se stesso, sono una cosa sola e il libero arbitrio concesso al figlio è il libero arbitrio che il padre ha concesso a se stesso perché padre e figlio sono una sola cosa. L'unica, la sola differenza che esiste tra noi e Dio è che Dio padre è il 10 e noi siamo un valore 10 alla meno uno, ciascuno di noi è un valore 10 alla meno uno. È una cosa fondamentale ma siamo nella stessa natura di questo ente 1 e 10 che anziché in linea discendente tale che un padre genera un figlio noi siamo assolutamente dipendenti dal padre perché dal figlio risaliamo al padre essendo noi meno uno in linea generazionale. La differenza caratteristica di quel nostro meno uno è che noi siamo relativi al più uno e questo più uno è proprio tutto il moto centripeto che praticamente annulla la realtà fino a ricacciarla nell'unità iniziale. Noi essendo nel segno meno abbiamo l'espansione da quel uno verso l'esterno e di conseguenza abbiamo la possibile immagine di una possibile libertà che però non esiste perché all'origine c'è la forza gravitazionale e noi che vediamo una sorta di Big Bang cioè di espansione di ogni cosa crediamo di esserci vittoriosamente opposti alla forza gravitazionale ma come per il Big Bang non è proprio così. Il nostro modo di vedere l'opposto dell'ammassamento è proprio conforme al nostro generale modo di vedere in modo uguale e distinto perché noi siamo 10 alla meno uno mentre il padre è 10 alla più uno. Infine c'è un'ultima cosa da dire a proposito di da dove veniamo. Noi veniamo da un calcolo. Il valore assoluto è 10 ma noi lo rendiamo un 10 infinito nella sua unità attraverso una operazione tecnica di dividere il 10 per la forma 9 a 1 quella unitaria interna ad un 10 assoluto che non ha riferimenti a un 1 mentre invece 9 a 1 ce l'ha ed è interno al 10 assoluto. Ebbene quando noi vediamo il 10 nel modo unitario del 9 il 10 diviso 9 diventa 1,11111 e noi vediamo il 10, vedete quel 10 alla meno 1 eterno all'infinito e il tempo che si sussegue al tempo sono i vari istanti nella nostra vita come se fosse un film. noi passando da un decimo all'altro nell'eterno decimo successivo abbiamo l'immagine di esistere in un frattale perché i frattali sono proprio organizzati in questo modo aggiungono ogni volta un decimo alla dimensione successiva. questa esperienza porta a vedere l'avvicinamento a un mondo come se questo mondo venisse sempre in avanti verso il soggetto che lo vede.